Strada dei Parchi lascia le autostrade e chiede quasi 2 miliardi e mezzo di euro. La società del gruppo Toto, che gestisce le A24 e A25, tramite una lettera sabato, ha chiesto al concedente la rescissione anticipata del contratto, che sarebbe scaduto nel 2030. Quando terminerà la procedura burocratica, le autostrade dovrebbero essere nazionalizzate e tornare in mano ad ANAS. Il congelamento del rincaro dei pedaggi fino al 2023 avrebbe dovuto consentire maggiore spazio alle trattative, ma il concessionario ha deciso di alzare il tiro e mettere alle strette il governo, anticipando la rinuncia e chiedendo 2 miliardi e 400 milioni. Sullo sfondo la mancata approvazione del piano economico-finanziario, atteso da quasi dieci anni. L'ultima bozza di PEF, la diciottesima, era stata redatta dal commissario nominato dal Consiglio di Stato, prevedeva maxi rincari del 16% l'anno ed è stata bocciata dal CIPES due settimane fa. Ritardi che hanno posticipato la messa in sicurezza delle autostrade, antisismica in primis, ma anche riguardo l'attraversamento della fauna selvatica, mentre sono in corso inchieste da parte di quattro procure sul degrado dei viadotti e la loro mancata manutenzione. Il problema è che l'equilibrio economico-finanziario della concessione è oramai compromesso, con il blocco dei pedaggi, l'esplosione dei costi di manutenzione e gli oneri covid non rimborsati, la società De Toto ha maturato un credito nei confronti del Ministero delle Infrastrutture che ha già superato i 300 milioni di euro e si stima arrivi a fine anno a 430 milioni. Al contempo, secondo la Corte dei Conti, strada dei parchi è in debito con Anas per quasi 75 milioni di euro. I gruppi parlamentari spingono affinché il Premier Draghi e il Ministro Giovannini intervengano rapidamente. I sindaci dei comuni attraversati dalle A24 e A25 nel frattempo sono intenzionati a proseguire la loro battaglia contro i rincari. Venerdì si riuniranno nuovamente a Carsoli e chiedono un incontro immediato a Roma. L'incertezza sul futuro delle autostrade non mette in allarme solo gli utenti, ma anche i circa 1.700 dipendenti del gruppo Toto. Nelle scorse settimane la Toto Costruzioni aveva già annunciato il licenziamento di 110 lavoratori impegnati nel cantiere di Valle del Salto.